Il Cerbero risponde a Blur. È un ragazzetto con atteggiamenti tossici e superficiali. Boh, non vedo dove sia il problema, devo essere onesto. Posso dire che è arrivato il momento di farla finita e di accettare in maniera passiva gli abusi commessi da colleghi che riescono in questo intento, semplicemente perché sono grossi dal punto di vista numerico e quindi intimoriscono altri. Possiamo dire anche basta? Eh, chiudete il canale. Beh, suppongo... ok? Vai, fate la prima... fate il... muovete il primo piede. Blur mi sembra un ragazzetto di 30 anni e funge da modello identificativo per chi? Come lui? Per chi è come lui? Cioè un man-child. Eh, potremmo essere anche caccol tra le due, onestamente mi prendo questa. Comunque c'ha 27 anni, avete rotto il cazzo, eh? Basta, cercate su Wikipedia, me trovate 94, e allora ve fidate. E che cazzo? Per favore, guarda chi è che non parla. Il vero... la vera guardia lì dentro, il vero snitch che abbiamo messo, che mi manda ogni volta i messaggi su WhatsApp, che mi dicevi stanno provando a fare questa cosa contro di te. Mr. Flame, un grande, un mostro, un fenomeno. Bravo, Flame Mo. Mo te devo mandare la tredicesima, non ti preoccupare. Best, eh, bentornato. Sì, comunque hanno ragione. Anzi, chiedo Venia. Leggiamoci dai, leggiamoci dei bei commenti, che mi fanno sempre ridere tanto. Sono un fan di Blur dagli albori e posso dire sinceramente che la dovremmo smettere di offenderci per tutto. Sì, Blur spesso e volentieri sbaglia ed è il primo a esserne consapevole, ma dobbiamo anche capire che fare gli offesi e lamentarsi solo quando si è bersaglia è moralismo spicciolo e vittimismo. Jack, non è vero, anzi ho sbagliato tutto io, quindi chiedo di nuovo scusa. E Jack, dovresti pensarla diversamente, ecco. Che pagliacci quelli del Cerbero? Teo, non è così che si risolvono le cose. È inutile che fai così. Non puoi metterti a insultare la gente o a dare dei pagliacci alla gente. Dovresti migliorare e maturare nel tuo comportamento. Grazie. Oddio, una gif usata bene! Una gif usata bene nei commenti di Instagram! Come cazzo è possibile? Non è incredibile? Guardalo! Zazzone ha 45 anni dopo aver ricevuto una distruzione del suo cuore da parte dell'amore della sua vita e ha deciso di andare in palestra. Guardalo, mio fratello! Teo, bentornato! Peter, Ciccio, Fox, bentornati! Oh, avete carriato questo trenino? L'abbiamo quasi fatto arrivare al 20, bravi ragazzi. Siamo quasi arrivati anche al gol, che comunque è regalato. È regalato in una maniera imbarazzante. Salve, grazie per le 5 giftate. Tumone bentornati, benvenuti. Ricordo Amazon Prime per sabbarsi gratuitamente a questo disgustoso canale. se avete il coraggio di farlo. Se no, non lo fate. Con la differenza che ad uno serve nominare l'altro per fare due visual in più. Spoiler, non è blur. Ma basta, anche questa basta, ragazzi. Va, pesante. Veramente pesante. Pesante dire alle persone che fanno visual solo parlando di altri. Cioè, se le persone streamano su questa piattaforma e hanno un seguito, è perché sono brave. È perché fanno bene quello che fanno. Ma è veramente una roba... è stupida questa. È come dire che Franchino aveva bisogno di rompere i coglioni a noi per fare due visual in più. Non è vero. Faceva già le sue visual. Per favore, ragazzi, smettetela con queste cose. Dai, Mr. Marra, fammi un panino con le zizzone di battipaglia di tua moglie senza mollica, ovviamente. Vabbè, questo mi fa ridere e basta. È letteralmente scollegato da tutto. Si chiama Pryson FC. Vabbè. Aaaaaah! Cristo, Dio. Niente, vedi, è perché ogni volta almeno faccio una serata horror ogni dieci giorni. Perché se no poi divento veramente... Io già so uno che si caga in mano. Multiplay, grazie per l'altra, dieci. Oh, Giulia, bentore... Perché sono tutte stesse a donne? Via! Non ve vogliamo! I commenti confermano quello che hanno detto. Madonna, Jacopo, Jacopi... Ok, non sappiamo che cosa tu intenda, però ci sta. Benvenuti al nuovo podcast, il piangerbero. Oh, mamma mia, non si può neanche più dire un'opinione che si piange. Siete pesanti, siete. Continua a non incularti di peso, tranquillo. Allora, io ho solo paura di una cosa. Ho paura che sia passato questo discorso mio del 2024, no? Dell'anno in cui magari mi faccio... Vado più qua e là, no? Mi faccio meno problemi. Così. Mi sento un po' anche io, un po' un Joy Boy. Anche se non posso ovviamente toccare la potenza del vero Joy Boy. Del vero re che ha urlato il Depp e Forza al centro del mondo. Però non vorrei che questa cosa sia passata come se effettivamente prenda e possa effettivamente andare da tutti. Cioè, vado dalle persone comunque con cui penso di potermi divertire. Ecco, non sto tutto là perché il mio lavoro è quello. Se non mi diverto poi è un disastro. Grazie a tutti, vi voglio bene. Flame! Stai facendo un ottimo lavoro nelle fila nemiche. Bravissimo. Continuo a mandarmi i messaggi su WhatsApp su quello che potrebbero essere i risvolti di questa situazione. Non esiste una persona dotata di ragionamento obiettivo che possa dire che Cerbero non sia di parte o con ragionamenti al confine da essere definiti tali. Blur ha dimostrato più volte di essere oltre al suo personaggio. Loro non fanno altro che accumulare dissensi ed a delle volte odio delle categorie più disparate. Geni assolute nel farsi odiare, in men che non si dica, quando capiranno che dovrebbero solamente chiudere, allora forse saranno migliorate come persone. Veramente ragazzi non sapete prendere in mano una critica delle persone. Cioè, cazzo, l'avesse detta, non lo so, uno che fa stream solamente su persone e casi umani e dramagate insensati, avrei pure detto ok, c'ha un senso. Ma, cioè, raga, viene da gente normalissima che ha solamente espresso la sua opinione. Madonna, quanto siete pesanti alle volte.